Cosa è un linfoma indolente? Il linfoma indolente è un tipo di linfoma che si muove molto lentamente attraverso il corpo. È anche noto come linfoma di basso grado. Quando il linfoma di un paziente viene identificato come indolente, può essere un fattore determinante nell'approccio al trattamento. Alcuni trattamenti non sono adatti a questo tipo di linfoma e altri potrebbero non essere ben consigliati, a seconda della situazione specifica del paziente. Il linfoma è un tumore dei linfociti, cellule del sangue che costituiscono parte del sistema immunitario. Esistono diversi tipi di linfoma, che possono coinvolgere diversi tipi di linfociti e muoversi a ritmi diversi. Quando un paziente viene diagnosticato con linfoma, parte del processo diagnostico comporta un esame dettagliato dei linfociti del paziente per determinare quali tipi sono coinvolti e per determinare se il tumore è alto o basso. Nei pazienti con linfoma indolente, il tumore si muove così lentamente che il paziente può sopravvivere per un decennio o più senza un trattamento aggressivo. Alcuni trattamenti potrebbero non essere efficaci a causa del modo in cui il cancro si sta sviluppando e diffondendosi, mentre in altri casi la chemioterapia, le radiazioni e altre opzioni possono mettere fuori uso il tumore, permettendo al paziente di andare in remissione. A volte, un medico può raccomandare di adottare un approccio conservativo al trattamento del linfoma indolente. Invece di trattare attivamente il linfoma del paziente, il medico può aspettare e vedere, monitorando il paziente per problemi emergenti e controllando le complicanze del linfoma non appena emergono. I costi e la prognosi potenziale con trattamento aggressivo potrebbero non valerne la pena in questi casi, rendendo l'approccio senza trattamento un'opzione migliore. Nei pazienti che non vengono trattati attivamente per il cancro, sono necessarie visite di follow-up regolari per verificare la diffusione del tumore e superare qualsiasi problema di natura medica. Poiché il linfoma è un termine generico per una grande famiglia di tumori, e il linfoma indolente copre una serie di diversi tipi di tumori all'interno di questa famiglia, è una buona idea parlare di specifiche con un medico. Il medico può esaminare il tipo specifico di linfoma indolente del paziente, la prognosi data le condizioni del paziente e altri dettagli che le persone possono utilizzare quando prendono una decisione informata sul trattamento. I pazienti non sono mai obbligati ad accettare un trattamento e non sono nemmeno obbligati a rifiutarlo, se un paziente non ritiene che l'approccio conservativo sia appropriato, può consultare un altro medico per ottenere maggiori informazioni sulle opzioni.